La linea ferroviaria Alessandria-Savona è stata chiusa questa mattina nel tratto tra Monte Chiaro d'Acqui e Mombaldone a causa di un grave incidente ferroviario. Una donna infatti stata investita da un convoglio secondo quanto si è preso da fonti di Trenitalia è morta all'istante. Il blocco della circolazione ha coinvolto alcuni treni regionali sostituiti dalle ferrovie con servizi di bus. Accertamenti sono in corso da parte della polizia ferroviaria per stabilire se si sia trattato di una disgrazia o se invece la donna si sia suicidata. E una vera e propria associazione a delinquere per truffare il fisco è stata scoperta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Alessandria. 5 milioni di euro recuperati a tassazione, oltre 10 persone denunciate, 3 ordinanze di misure cautelari eseguite di cui un arresto domiciliare e due obblighi di dimora. Il sodalizio criminale era composto da persone domiciliate in Piemonte e Lombardia, ora indagate per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e faceva capo a un sessantenne residente ad Alessandria e a due suoi stretti collaboratori residenti a Tortona e Pavia. Questi ultimi sono risultati gli amministratori di fatto di una fitta rete di società per lo più cartiere affidate a prestanome, utilizzate al solo scopo di emettere fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, in merito a sponsorizzazioni sportive, prestazioni di consulenza, ricerche di mercato e assistenza su cantiari edili. Nei confronti della mente e della truffa il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari, mentre per gli altri due è stata prevista la misura coercitiva dell'obbligo di dimora. Le fiamme gialle hanno poi sequestrato un immobile del valore di 600 mila euro, una collezione di oltre 100 pezzi di armi comuni da sparo e da taglio, 30 icone russe e due orologi di pregio. Ancora cronaca, cade dal letto e rimane infilzata da un ferro ma viene salvata dai vigili del fuoco che entrano nell'appartamento e la affidano al 118. È accaduto nel centro di Alessandria dove una donna si è inadvertitamente ferita con il ferro. Le sue urla di aiuto hanno richiamato i vicini di casa che hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno forzato una finestra e sono entrati e lei è stata trasportata al pronto soccorso, ma non è grave. E cambiamo argomento. Fubin Ridens apre il laboratorio di comicità più famoso di Italia domani alle 21.15 nel Salone della Casa del Popolo. Arriveranno sul palco Federica Sassaroli ed Enzo Paci. Lei è allieva di Paolo Rossi e ha lavorato con varie compagnie teatrali, partecipando ad alcune produzioni televisive dal 2007 e la voce nazionale di Vodafone Italia. Paci, diplomato nel 2000 presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, è un grande appassionato di cabaret. Lui, con i suoi monologhi nevrotici e caustici, mette in evidenza le contraddizioni tipiche della nostra società. Lei porta sul palco un'osservazione del mondo femminile, dall'irriverente Lola, cuoca spagnola, sempre pronta ad analizzare le strane abitudini politiche e sociali degli italiani, fino ad arrivare alla svampita Noemi, aspirante attrice, ballerina, velina, showgirl e conduttrice, perennemente in caccia di provini. E così per il momento dall'Alessandrino è tutto. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea va allo studio. Grazie a tutti.